Play 45, siamo su questo magnifico gioco Rete Drudumshun 2 e oggi andiamo a fare il compito che c'è lato zio della sua medicina, questa qua abbiamo bisogno dell'erba bambagia, mentina e puzzola ho trovato la posizione dell'erba bambagia infatti ci andiamo vabbè quel tizio tanto è morto, ma aspetta un attimo, ragazzi prima che disfauna è ancora lì ma ma è vivo no mi sa che è morto si infatti c'è la x allora sulla mappa c'è l'HL che mi sta cos'è? chi è? Henry Lemieux vabbè lo faccio un'altra volta comunque andiamo verso l'erba bambagia c'è un nome spettacolare ho trovato il nuovo cavallo un nuovo cavallo che ragazzi è bellissimo è tipo è un americano arabo cioè scusate è un cavallo arabo che costa 625 ovviamente l'ho rubato si chiama sale vorrei un attimo pulirlo mi sembra un po' sporco poi di giorno diventa viola di notte grigio c'è un multicolore questo cavallo è bellissimo e poi di notte di giorno c'è un bel sole lucica è strano siamo da qua siamo dal fiume beh poi andiamo a comprare le medicine per l'energia del cavallo ma io non sto qua io non so questo tirchione di zio se non può andarsi a comprare la medicina al posto di chiedere a me qua c'è un tizio non li vogliamo distrubare qua è ambientata una missione se non sbaglio dove devono rubare il moonshine ecco si è qua perchè mi ricordo sto ponticello minuscolo eccoci attraversiamo il fiume di qua e siamo arrivati oh c'è un cocodrilo guarda che se mi ammazzano il cavallo ammazzo io il pianeta cioè io non ce la faccio se lo ammazzano vabbè facciamo il ponte per sicurezza non voglio che mi uccidano il cavallo 7400 dollari sbaglio ho appena ucciso un animale vabbè niente lasciate stare allora eccoci cosa è arrivata siamo di qua che bello vediamo se c'è sta erba bambagia meglio che faccia allontanare il cavallo se no qua me lo ammazzano ha detto via eccola lì in fondo l'erba bambagia no ragazzi no ma poi c'erano gli occhi rossi cos'è sta cosa un attimo che lo sparo oh ecco fai bene a scappare a parte che ho perso il cappello cappello prenditelo prendi di nuovo la revolver caricala vabbè prendiamo l'erba bambagia accogli ed esamina ma non è l'erba bambagia forse è quella fiore ma perchè non c'è l'erba bambagia nel video c'è scritto che si trova lì l'erba bambagia o come la chiama lui un attimo che guarda il video scusate un attimo allora ah ma più in giù capito ora cioè tipo boh qua dietro se non sbaglio ah finalmente l'abbiamo trovata l'erba bambagia bene ragazzi allora vediamo se adesso il nostro compendio del tipo lì si è aggiornata ah finalmente adesso cerchiamo come trovare mentina su come trovare mentina su rdr2 dai vediamo ah c'è proprio un video dove ti dice tutte le locazioni un attimo scusate vediamo cosa posso fare grazie John camp item request gun clip bourbon ce l'ho ah la puzzola no pomatta per i capelli ce l'ho questo cos'è scusate andate un po' più in avanti cos'è milkweed scusate ma scusate ragazzi che guardo milkweed asclepiade ma qua non vedo la scusate però sarà di sicuro la mentina allora ragazzi facciamo un bel campo però col nostro cavallo e ci teletransportiamo in quella zona che sarebbe tipo qua tipo qua in quella zona vediamo un attimo ragazzi ecco precisamente qua tipo quindi vuol dire che dovremo andare a rotes ma no possiamo anche non fare viaggio rapido allora ragazzi dopo ci siamo in fiume potete semplicemente schippare un po' e andare a andare a andare un po' avanti col video nooo c'è un tizzo dov'è dov'è? che cavolo sei? ah ma sei lì scusate ma che cavolo Sono strano le persone a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.